Sì Vuoi? No, grazie. È molto buonissimo. Quando dove hai imparato l'italiano? Sono venuta qui per un anno. Quando ero piccola tutti volevano venire in Italia. Ma ti piace? Abbastanza. Quindi resti? No. Voglio andare in Germania. A Monaco ho una mia amica. Appena ho i soldi vado da lei. Tu sei sempre stato qui? Io sì. Ti piace? Abbastanza. Sì. E non vuoi cambiare? No, va bene così. È bello cambiare. Il paese che non è spesso per il bagno su Grigia e Nicota. È detto. È meglio morire per il zampa di leone che per il morso di gatto. Pochi sanno che Alessandro Borghi è esordito come stuntman. Poi la sua popolarità esplosa nel 2015 con Suburra. È molto molto sportivo. È appassionato di equitazione, pugilato e scherma. Vi piace? In quale ruolo vi ha convinto di più? Fatemi sapere nei commenti qui sotto. E se anche voi siete contro gli spoiler, questa è la vostra maglietta. In infobox trovate come comprarla. Ciao da Valeria.